E' la prima città, come ci dicono tutte le riviste specializzate, ed è una città nella quale ormai si resta non soltanto una notte, ma ben quattro notti. Gli albergatori mi dicono che ormai siamo arrivati al record delle quattro notti di permanenza nella nostra città. Una città nella quale, secondo i dati dell'aeroporto, arrivano in media un milione di turisti al mese. Per fine d'anno saranno più di 11 milioni i turisti che saranno arrivati, quindi noi siamo contenti e ci sentiamo molto impegnati a offrire una città nella quale è bello stare ed è bello anche tornare, perciò abbiamo voluto dire vedi Napoli e poi torni. Un progetto articolato in tre linee, la musica che gira intorno, con eventi musicali nelle dieci municipalità, al parco in armonia che si svolgerà nella villa comunale e itinerari nelle municipalità con percorsi di visite guidate. Tutto da oggi al 7 ottobre per creare esperienze che suscitino il desiderio di tornare, promuovendo il patrimonio di Napoli, culturale, materiale ed immateriale, di storia e arte millenaria, musica e creatività. Sono oltre 100 gli appuntamenti nelle municipalità, tra percorsi guidati e concerti, con artisti di varie generazioni per coinvolgere un pubblico ampio anche in termini di età, alla scoperta di luoghi poco conosciuti accanto a quelli più noti. Da un lato congiungere Napoli con tutti i suoi luoghi, quindi eventi che sono distribuiti in tutte le municipalità con dei percorsi turistici, con musica e poi dare l'opportunità ai tanti artisti napoletani di potersi esprimere. Noi abbiamo una grandissima qualità artistica, una grandissima creatività, sia di tipo più tradizionale che di tipo molto innovativo e questo programma che è stato messo in campo dal Comune va proprio in quella direzione. Spettacoli di qualità che coprono tutta la fascia della creatività napoletana e che si fa poi in tutte le municipalità, quindi un'operazione veramente molto bella che si inserisce nei vari programmi che noi abbiamo previsto per l'estate a Napoli e avremo veramente un'estate napoletana dedicata ai turisti e ai napoletani, piena di eventi, piena anche di napoletanità, quindi siamo molto lieti.